Will Smith sarà un neuropatologo in un film denuncia sui rischi dei traumi cerebrali derivanti dal football. Pellicola questa su uno dei problemi più scottanti dello sport americano, sui rischi per la salute degli atleti derivanti dalle ripetute concussioni cerebrali di cui sono vittime i giocatori di football americano. Una questione sulla quale è acceso ai riflettori lo stesso presidente Barack Obama che la settimana scorsa ha convocato alla Casa Bianca un summit sul tema. Il film che per ora non ha ancora un titolo ufficiale tratto dall'inchiesta Game Brain pubblicata da GQ. Dietro la macchina da presa ci sarà invece Peter Landesman.